Le malattie cardiovascolari rappresentano oggi la prima causa di morte nel mondo. Secondo le stime più recenti, ogni anno causano la morte di 17 milioni di persone. Nel nostro paese sono responsabili del 35,8% dei decessi, superando i 230.000 casi in un anno. In futuro il quadro potrebbe aggravarsi a causa degli effetti a lungo termine provocati dalla pandemia che influenzeranno negativamente il trend delle malattie cardiovascolari. Le limitazioni imposte dal lockdown prolungato che hanno determinato una sedentarietà forzata e favorito un'alimentazione a base di cibi calorici, ad alto contenuto di grassi e a lunga conservazione, incideranno negativamente sui tassi di prevenzione e di mortalità delle malattie cardiovascolari. Aumento di peso, isolamento sociale, smart working e chiusura prolungata delle palestre sono e saranno nei prossimi anni fattori determinati dell'aumento del rischio di malattie cardiovascolari. A Bari, per favorire la più ampia diffusione della campagna lungo le strade più trafficate, sono stati affissi manifesti 6x3 e nelle piazze più frequentate sono stati installati dei totem. In molte farmacie e in distribuzione gratuita è un opuscolo utile per salvare il cuore. Saper riconoscere il dolore toracico ci può salvare la vita o può salvare la vita di un nostro caro. Se avete un dolore toracico chiamate subito il 118. In questa campagna di sensibilizzazione spieghiamo come riconoscere un dolore di sospetta natura ischemica cardiaca rispetto a un dolore meno pericoloso. Raggiungere in breve tempo l'ospedale quando si ha un infarto in corso è fondamentale. Noi cardiologi diciamo il tempo e muscolo. Prima si riapre la coronaria che è responsabile dell'ischemia cardiaca dell'infarto in corso. Migliore è la prognosi del paziente non solo nella fase acuta ma anche a distanza.